Imu al massimo, si era detto qualche giorno fa, per chi dispone di secondi appartamenti e li lascia sfitti senza metterli a disposizione di chi una casa, dal 6 aprile 2009, ancora non ce l'ha. E degli alloggi del progetto case di tempera, chiusi da tre anni, cosa ne facciamo? Si chiedono alcuni abitanti del complesso. Qui ce ne sono molti chiusi. Chi ha segnalato questo ha fatto secondo me benissimo perché è proprio la verità. Questo appartamento lì davanti, specialmente, vengono, aprono le finestre, le richiudono e se ne arrivano. E non è giusto perché ci sono persone che sono ancora negli alberghi e non mi sembra assolutamente giusta questa cosa. Addirittura io ho incontrato un signore un giorno che prendeva l'autobus e mi diceva che era venuta ad aprire le finestre e se ne ritornava all'Aquila tranquillamente. E invece ci sono appartamenti proprio sfitti, nel senso che non sono stati mai assegnati? Sì, assolutamente sì. Ce ne sono parecchi, molti. E noi siamo piuttosto arrabbiati perché sappiamo che c'è gente che ha bisogno. La segnalazione è arrivata a TV1 proprio in merito alla situazione che stanno affrontando alcune persone, costrette a stare negli hotel interni alla Guardia di Finanza in condizioni pessime, aspettando la ristrutturazione delle case che hanno perso durante il terremoto. Per costoro non ci sono stati né ci sono progetti case e map, solo l'incertezza di dover restare in una zona militare senza molte libertà e con tutti i problemi legati alla vivibilità delle stanze che li ospitano. Io sto già da tre anni qua di più. Ci sono appartamenti che non ho visto mai padroni, mai non ho visto. Perciò secondo me ci sono. Però sono comunque appartamenti occupati da qualcuno? Ci sono occupati, però non ho visto padroni. Chi abita lì non ho visto. Sempre sto giocando, io esco con la mia figlia, giochiamo, però non ho visto mai. Vedo che ogni tanto si aprono la porta o accendono la luce, però non ho visto. Mi dispiace che altre persone può darsi le serve appartamenti, qualcuno li occupa, l'altro non ha dove vivere. Mi dispiace di altre persone che adesso ancora stanno al mare, di quelle sì mi dispiace. Perché queste persone non possono vedersi assegnato un alloggio dei progetti case dal momento che molti di questi sono sfitti? Perché molti assegnatari degli appartamenti dei progetti case lasciano vuoto e chiuso il proprio alloggio senza pensare che potrebbe esserci qualcuno che ne ha più bisogno di loro? Le case costruite nel post-sisma sono provvisorie per definizione. Una volta ultimata la ricostruzione delle case di proprietà dovranno essere riconsegnate. A che pro allora tenerle per sé, ma tenerle chiuse, anche se si dispone di un altro appartamento?